Siccome è l'undicesimo anniversario, mi sembra duopo invitare qui sul ring il presidente della TCW per un discorso d'apertura. Ecco a voi quindi Jacopo Galvani! W, D, C, W Lì c'è il merchandising, prego alzarsi e andare a comprare qualcosa, vergognatevi se non lo fate perché dovete sopportare la TCW che resiste 11 anni, grazie a voi e soprattutto ai ragazzi che salgono su questo ring, grazie anche a Mattioschi che ci fa sempre bella pubblicità, non abbiamo veramente, non abbiamo guadagnato niente con Mattioschi ma non importa, noi li vogliamo bene per quello che è, brutto così va bene. Mattioschi è questo, 11 anni di TCW, quindi mi raccomando ragazzi spero che sia un bellissimo evento che possa divertirvi e soprattutto festeggiate con noi, intanto arrivano in ritarda tali perché hanno pensato giustamente, iniziano sempre tardi quindi sarà così anche questa volta. Non importa che fare, presentiamo il primo match Mattioschi per questi 11 anni, spero che vi divertiate, lo presento io l'arbitro che è il mio preferito, il Cortellinator, eccolo qua. Fate un applauso al nostro arbitro numero uno! Dovrà avarcare anche lui i cancelli della morte, no? Ce l'ha appena fatta, molto bene, perché voi non lo vedete ma lì c'è un buco che reclama vittime. Ne ha già reclamate il passato di vittime, sono stati momenti epici che prima o poi faremo, visto che sapete che stiamo facendo il documentario sulla TCW, ci sarà anche nei contenuti speciali tutte le cadute, tutti gli errori e quindi qui sarà il nostro pane quotidiano.